Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospio è su questo canale. Secondo video dedicato al metodo delle cinque stanze, con questo video andiamo a vedere una a una le stanze e descriverle nei dettagli. Non vi preoccupate se vi siete persi i video e non volete vederli in ordine. In fondo al video vi metto poi i tasti per andare avanti e indietro nella playlist. Questa settimana cominciamo parlando della prima stanza che gli avventurieri normalmente trovano nella quest, la stanza dell'entrata e del guardiano. L'entrata è fondamentale per stabilire il mood della quest, sia a livello di dungeon fisico, sia a livello di dungeon concettuale. Ho già fatto una digressione su questo nell'episodio 13, vi metto poi il link da qualche parte, magari anche in descrizione. Se non l'avete ancora visto andate a recuperarlo. L'ingresso è il momento della quest in cui il Master descrive in maniera generale sia quali saranno i principali temi, sia quali saranno i principali elementi descrittivi che i giocatori dovranno aspettarsi da lì in avanti. Questa descrizione deve riguardare sia gli elementi fisici, per permettere ai giocatori di immaginarsi l'ambiente in cui si svolge l'azione, sia gli aspetti più immateriali e concettuali per dare la possibilità ai giocatori di sapere qual è il tono della campagna e cosa devono aspettarsi e cosa no dal racconto che sta venendo messo in scena. Ad esempio se l'avventura inizia nell'antica foresta stregata, il Master dovrà descrivere agli avventurieri quali sono gli elementi di questa foresta, sia a livello meccanico quanto sono distanti gli alberi uno dall'altro, sono scalabili quanto è difficile scalarli, il terreno nella foresta è considerato terreno aperto o il fogliame rallenta i giocatori, gli dà dei malus, impedisce di muoversi come vogliono. Dovrà anche poi descrivere il mood, se l'antica foresta stregata sarà cupa, umida, ci saranno dei versi strani che si sentono all'improvviso in lontananza. Tutti gli elementi che permettono ai giocatori sia di muoversi meccanicamente nella foresta, sia di muoversi con l'immaginazione pensando alla scena che stanno vivendo. Questo dà ai giocatori quello che viene chiamato il contesto in cui si svolge l'azione. In parole povere permette che nonostante ogni persona voli con la prima fantasia, grossomodo tutti si staranno immaginando la stessa cosa. Questa però non è la stanza dell'entrata, è la stanza dell'entrata e del guardiano. Il guardiano è quell'elemento di trama che giustifica perché siano gli avventurieri a dover compiere l'impresa o semplicemente perché l'impresa non è stata già compiuta da qualcun altro. Il guardiano più semplice è l'incontro con un mostro particolarmente potente che sorveglia l'ingresso. Nell'esempio che avevano fatto del dungeon dei cultisti l'ingresso dell'antico tempio era difeso da dei non morti troppo potenti perché gli abitanti del villaggio potessero affrontarli da soli e questo rendeva obbligatorio che fossero gli avventurieri andare a fare la missione e non qualcun altro. Il guardiano potrebbe comunque essere qualunque altra cosa, potrebbe essere una trappola, potrebbe essere un indovinello, potrebbe essere un meccanismo, potrebbe essere una complessa situazione sociale. Diciamo che un qualsiasi elemento che richieda delle particolari competenze, delle particolari caratteristiche per essere superato, non necessariamente il guardiano deve essere cosciente di essere il guardiano. L'ingresso dell'antico dungeon si trova sul fondo di una caverna che adesso è diventata la tana di un animale o il rifugio di una tribù di orchi o il posto dove un drago ha ammassato il suo tesoro. Come potrebbe essere stata coperta da un crollo o essere stata usata per immagazzinare rifiuti radioattivi. Il guardiano potrebbe essere anche qualcosa di ambientale o situazionale. Per trovare la leggendaria isola del tesoro bisogna avere la mappa dei pirati. La mappa dei pirati è andata perduta finché gli avventurieri non l'hanno recuperata incidentalmente in una loro precedente missione. O il relitto dell'astronave che contiene quell'oggetto di particolare valore si trova in un campo di asteroidi instabili che ruota attorno a un sistema stellare binario. I campi gravitazionali sono così complessi da gestire che già un sacco di ottimi piloti sono morti e nessuno ha più cercato di tentare l'impresa. Indipendentemente da quale sia il guardiano ricordate che questo elemento serve a giustificare il perché siano gli avventurieri a dover compiere l'impresa e non possa essere nessun altro. In più sfruttatelo come ulteriore elemento per far capire ai giocatori sia quale sarà la difficoltà degli incontri che andranno ad affrontare sia quale sarà il mood dell'intera quest che parte da dopo l'ingresso. Torniamo alla pratica rende perfetti. Questa settimana la nostra squadra dell'inquisizione è scesa nei bassi fondi della città ma ha fatto una brutta scoperta. Ha incontrato il guardiano. Nonostante gli fosse stato fornito un accesso abbastanza diretto alla parte bassa del sottoformicaio dove ci sono le turbine che mettono in circolo l'aria, la squadra ha fatto una brutta scoperta. A quanto pare la zona adesso è diventata la base delle operazioni di una pericolosa banda di gangster dell'underive, criminali, rifugiati, sbandati, eretici e recidivisti che hanno preso il controllo della zona perché prosperano sul mercato nero che c'è tra la parte civilizzata del formicaio e quella no. Gli avventurieri per proseguire nella loro missione e accedere all'underive dovranno o convincere la banda a farli passare o andare con le maniere forti e far fuori la banda risolvendo anche un altro problema per l'ive. La banda è il guardiano perché effettivamente è quello che impedisce a chiunque di andare e venire. solo un gruppo molto specializzato e anche molto bene armato ha la possibilità di uscire vittorioso da uno scontro con un gruppo di criminali. Il cittadino normale non avrebbe speranze. Se il master ha calcolato bene l'incontro gli avventurieri dovrebbero riuscire a passare anche se il confronto sarà abbastanza duro e sia che scelgano la via diplomatica sia che scelgano di usare le maniere forti non è così scontato che possano uscire indenni dal confronto. Se ce la dovessero fare vedremo poi nel prossimo video come prosegue la loro avventura. Per questo video invece è tutto se avete domande, dubbi o perplessità o se volete raccontare o avete aneddoti su ingressi spettacolari che il vostro master ha preparato o da master come fate voi a far approcciare per la prima volta i giocatori o il nuovo ambiente usate l'area di discussione qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae noi ci rivediamo al prossimo video.